Nuovi orari della ZTL, i barchi saranno attivi dalle 8 alle 23 e 30 nei giorni feriali e dalle 14 alle 23 e 30 nei giorni festivi, fatto salvo per i barchi attivi 24 ore al giorno. Da Palazzo Moroni precisano che continua quindi la sperimentazione con l'obiettivo di diminuire la congestione del centro cittadino senza penalizzare l'accessibilità in dialogo costante con i padovani e le categorie economiche, anche perché Natale è sempre più vicino.